Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Iniziamo a parlare del maltempo. La pioggia infatti insiste, cadrà sulla Toscana ancora fino a domani. La sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato ancora. Il codice giallo per pioggia, già emesso venerdì, è prolungato poi fino alle 12 di oggi. È stato prolungato ancora fino alle 14 di domani, lunedì 20 maggio. Il codice interessa quasi tutta la Toscana, isole comprese ad eccezione di Mugello, Valdisieve e la zona di confine con la Romagna. Domani in particolare le piogge saranno a tratti persistenti sulle zone di nord-ovest con accumulati medi significativi e massimi fino ai levati sui rilievi. Sul litorale, tra Livorno e Follonica invece nulla da segnalare. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana. all'indirizzo regione.toscana.it slash Allerta Meteo. Parliamo adesso di cronaca. Un 23enne è morto la notte scorsa dopo che la sua auto è finita fuoristrada a Donnini nel comune di Reggello. Da quanto spiegato dai vigili del fuoco che sono intervenuti insieme ai sanitari inviati dal 118, la vettura si è ribaltata finendo contro alcune piante. L'incidente è avvenuto dopo le 2 lungo la strada provinciale 88 di Firenze. Un 56enne di origine straniera è stato accoltellato all'addome ieri sera a Montevarchi, in provincia di Arezzo. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale della Gruccia e non sarebbe in pericolo di vita. Il suo aggressore sarebbe invece riuscito a fuggire. Sull'episodio, che è tutto ancora da chiarire, indagano i carabinieri. Da quanto è emerso tutto è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera. Cercava compagnia il 50enne fiorentino che ieri pomeriggio su un sito internet ha trovato il cellulare di un ragazzo che in modo esplicito gli offriva sesso. L'uomo ha chiamato il numero, lo ha invitato a casa nel centro di Firenze. Il ragazzo è arrivato alle 19 circa, ma non era solo. Era con un altro ragazzo. Hanno aggredito l'uomo, rubandogli anche circa 400 euro dal portafoglio. Poi sono state avvertite le forze dell'ordine, in particolare il 113. È iniziato un inseguimento, ma i due sono riusciti a far perdere le loro tracce. L'uomo, il 50enne, sarebbe in grado di riconoscere i due giovani italiani, ha spiegato. E una decina di militanti di Forza Nuova, intorno alle 12 di oggi, ha compiuto una passeggiata contro la sostituzione etnica in un breve tratto di Via Pistoiese, nella Chinatown pratese. Al presidio non ha partecipato, come invece era stato annunciato, il leader nazionale della formazione neofascista, Roberto Fiore. Poco distante, nei pressi del circolo Arcir Curiel, alcuni cittadini di associazione e partiti antifascisti hanno allestito un presidio con alcuni cartelloni. Non si sono registrati i contatti tra i due gruppi, la passeggiata si è esaurita in pochi minuti. Decine però erano gli uomini del Forza e dell'Ordine che hanno comunque presidiato per ore la prima periferia della città. A proposito di cartelloni, stasera ci sarà Salvini alle 9 in Piazza Strozzi a Firenze. Prosegue anche a Firenze la lotta tra lui e i molti striscioni che vengono appesi alle finestre. Molti ne sono comparsi anche nell'Oltrarno, Stamani e altri anche in altre zone della città. A proposito di Salvini però fa molto discutere un'opera d'arte realizzata da alcuni studenti di un liceo pisano che hanno creato l'immagine di Salvini per una mostra da loro allestita utilizzando delle foto dei naufragi. Un poster che raffigura Salvini realizzato con centinaia di immagini di naufragi nel Mediterraneo. È il frutto del lavoro fatto utilizzando la tecnica del mosaico dagli studenti della quarta e quinta classe del liceo artistico pisano Russoli. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tirreno. Per fare questa immagine sono state impiegate 400 foto di naufragi scomposte e sovrapposte su uno sfondo ritratto da un selfie del vicepremiere ministro dell'Interno seduto su un divano dorato. Matteo Salvini ha postato sui social l'articolo del Tirreno commentando e viva l'arte e viva Pisa hashtag porti chiusi hashtag menti aperte. E Susanna Ceccardi sindaco leghista di Cascina e candidata alle prossime europee ha definito scandaloso il mosaico. Oggi col ministro Salvini scrive su Facebook Le morti in mare sono drasticamente diminuite. Perché non hanno fatto questa bellissima opera d'arte nel 2016 mettendoci la faccia di Renzi e Alfano quando le morti in mare erano 5096? L'idea agli studenti era venuta durante il corso di potenziamento sull'arte contemporanea tenuto dal professor Roberto Martini. Un viaggio di sei mesi tra filmati, documentari e opere sfociato con una mostra tutta loro dal titolo L'arte dell'acqua. La nostra è arte, puntualizza Serena Bevilacqua, una delle autrici dell'opera, e non c'è nessuna provocazione. E l'abbiamo raccontata in vari modi per cercare di creare più dubbi possibile all'inconscio. Non abbiamo descritto l'opera, ognuno può interpretarla a modo suo, è un invito a riflettere. Enrico Rossi torna nel Partito Democratico, lo ha annunciato lui stesso in un'intervista a Repubblica. Dopo le elezioni chiederò l'iscrizione al PD. Non mi sono consultato con Zingaretti prima di decidere questo passo. Penso semplicemente che ci siano le condizioni per rientrare dopo le elezioni, e lo dico prima, perché non si pensi che dipenda dal risultato delle urne. Lo annuncia Enrico Rossi, presidente della Toscana e tra i fondatori di Articolo 1 MDP, in un'intervista a Repubblica. Ritengo di poter dare il mio contributo all'opera di Zingaretti, che, lo ha detto anche Renzi, ha avuto il grande merito di riaprire, tenere insieme. In quel momento, spiega Rossi, ricordando il suo addio al partito con Renzi segretario, uscire dal PD mi sembrò la cosa giusta da fare, poi i risultati elettorali hanno dimostrato che invece io e gli altri abbiamo sbagliato. Ammette, riferendosi alla sconfitta di Leo, coalizione di cui faceva parte MDP, alle ultime politiche. L'idea che con l'ascissione si potesse recuperare coloro che protestavano per le politiche del PD, votando 5 Stelle o addirittura Lega, non ha funzionato, ammette. Sull'accoglienza che riceverà, l'importante è che non ci siano aggressioni. Da parte mia non ce ne saranno, è meglio subire un'aggressione pur di riunire la sinistra, piuttosto che rispondere con aggressività. Dichiera Rossi che sulla necessità di riunire la sinistra torna a ribadire. Se vogliamo vincere dobbiamo riunire una forza che vada dai liberali alla sinistra e mettere in campo elementi civici che non si riconoscono nell'incompetenza dei 5 Stelle nel populismo della Lega che lisce il pelo al neofascismo. Tra le prime reazioni dell'opposizione, all'annuncio, quella del candidato alle elezioni europee per la Lega e consigliere regionale Jacopo Alberti. Non mi stupisce questa mossa di Rossi, dopo tutto si sente tremare la poltrona. A un anno dalle elezioni per la regione doveva trovare un modo per riciclarsi e questa decisione era scontata, scrive Alberti, che aggiunge. Ormai nel PD sono così fissati con la tramvia che fanno salire e scendere chiunque. Antonio Maria Rinaldi, candidato per la Lega per la circoscrizione centro, quella che comprende Toscana, Umbria e Marche, era a un incontro organizzato da Italia Futura, associazione che lo appoggia. Sentiamo quindi le sue idee per l'Europa. Allora, innanzitutto andrebbe cambiato il rapporto degli italiani nei confronti dell'Unione Europea. Perché si dice sempre cosa cambiare in Europa. No, noi dobbiamo andare lì a cambiare l'Unione Europea, che è un'altra cosa. E soprattutto quel rapporto che non ci consente di essere effettivamente dei protagonisti sui tavoli europei. Quindi innanzitutto noi dobbiamo prendere coscienza che si va in Unione Europea a tutelare gli interessi degli italiani. Questo è quello che va fatto. Purtroppo non è stato fatto fino adesso. La prima cosa è che ho preso l'impegno che mi farò promotore di un'iniziativa, perché è nelle prerogative del Parlamento Europeo, di promuovere una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale Commissione, che altrimenti scadrà il 31 ottobre di quest'anno. Quindi altri quattro mesi lì non ce li lasciamo. E poi naturalmente cercherò di tutelare in tutti i modi il Made in Italy italiano. E cercherò con tutte le forze, se sarò eletto, il fatto di dare veramente un aiuto al territorio per poter recuperare quei fondi europei che invece purtroppo non riusciamo a prendere. Abbiamo bisogno di una banca centrale europea che sia effettivamente una banca centrale, mentre negli effetti non lo è. Come ad esempio le regole previste dai trattati, dal fiscal compact, che vanno completamente riviste. Cioè bisogna riportare questa Unione Europea al centro e soprattutto portare i cittadini e l'economia reale al centro d'attenzione. Se staremo ancora dietro a come è avvenuto fino adesso, in cui ci si preoccupa solamente delle multinazionali, delle banche, del sistema finanziario, la fine è segnata. Noi vogliamo recuperare quello spirito e stavolta ci riusciremo. Come difendersi dalle truffe? Le forze dell'ordine diramano alcuni consigli, diretti soprattutto agli anziani. Gli anziani finiscono spesso nel mirino di truffatori senza scrupoli. Tra i consigli che ogni anno le forze dell'ordine rivolgono agli anziani, c'è dunque in primis quello di non aprire la porta o fare entrare in casa persone che non si conoscono. Di fronte a situazioni ambigue, per qualunque problema o per chiarire qualsiasi dubbio, non esitate a chiamare le forze dell'ordine. Se non ricevete rassicurazioni, non aprite per nessun motivo. Mai fidarsi di chi si presenta alla porta, anche se sono eleganti e rassicuranti, abili nel parlare, apparentemente colti e dai modi cordiali. Difidare di chi si presenta in tuta da lavoro, in uniforme, anche se mostra un tesserino, di chi si spaccia per impiegato, di enti pubblici o privati. Difidate di chi vuole controllare i vostri soldi, non pagate le bollette a chi suona il campanello, non fidatevi di chi vi propone guadagni vantaggiosi. Anche per strada fate attenzione a chi vi avvicina e non date confidenza agli sconosciuti. Se avete il dubbio di essere osservati, fermatevi all'interno della banca o dell'ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada, entrate in un negozio o cercate un poliziotto o una compagnia sicura. Non prendete pacchi se non avete ordinato niente. I consigli valgono anche per i vicini di casa. Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto con loro quattro chiacchiere. Se alla loro porta bussano degli sconosciuti, esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li renderà più sicuri. Segnalate comunque alle forze dell'ordine ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga l'anziano o vostro vicino di casa. Quindi gli anziani non devono esitare a chiedere aiuto anche a chi abita accanto. Spesso infatti è successo che l'intervento di un vicino abbia impedito a un truffatore di colpire. Strategie e azioni per il centro storico di Grosseto. Se ne è parlato a un seminario che ci racconta Carlo Sestini. Perché si organizza un convegno dove si parla di strategie e azioni per la città storica? Un convegno dove si parla anche del futuro di Grosseto, visto che è considerato che il nuovo piano regolatore, piano strutturale o strumento urbanistico, che der si voglia, verrà pensato proprio in questi momenti. L'idea nasce all'interno dell'attività di Officina Chigiotti. ero molto interessato e sono molto interessato a quelli che sono gli aspetti della modernità. Per cui uno degli aspetti che riguardano la modernità di Grosseto è il futuro che la città potrà avere e il ruolo che la parte storica di Grosseto avrà in questa città del futuro. L'urbanistica certamente negli ultimi anni sta ponendo una grande attenzione sulle azioni di recupero e di valorizzazione dei centri storici italiani. A che punto siamo? Ma in realtà siamo a un punto di inizio perché credo che ancora non abbiamo la consapevolezza delle risorse, delle potenzialità che hanno questi centri storici, come quello di Grosseto. Cioè sono luoghi che oggi stanno diventando periferie perché si stanno spopolando, perché i piani terra si stanno svuotando, ma la loro bellezza e la loro qualità, la capacità di addettarsi nel tempo dovrebbero tornare ad essere delle risorse. Io credo che la città, se vuole ridurre il consumo di suolo, deve tornare a investire sul costruito, ma in particolare su quello storico. Per redigere il piano strutturale e il piano operativo, il centro storico che ruolo avrà? Il centro storico avrà il ruolo che deve avere, che ha avuto, che è durato per secoli. È uno snodo territoriale, prima ancora che un luogo cinto di mura. Se è uno snodo territoriale e urbano bisogna poterci arrivare facilmente e bisogna poterci trovare qualcosa che altrove non si trova. Uno dei problemi maggiori è proprio lo spopolamento. Che cosa si può fare? Non si può fare moltissimo, ci vuole pazienza. Bisogna pensare alla città come un cantiere, non tutto si risolve nello stesso momento e nello stesso luogo. Bisogna trovare le convenienze per abitare in centro storico. È fortemente attrattivo, ma non è facile da vivere nella quotidianità. Perciò al primo passo dobbiamo pensare alle politiche integrate, ad aiutare l'abitabilità in centro storico. È finita 1 a 0, Parma-Fiorentina è 4 a 1, Empoli-Torino. I dettagli di questa domenica calcistica delle Toscane che porta la Fiorentina a un passo dalla retrocessione in un servizio nella seconda edizione del nostro telegiornale. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Buona serata. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito.